Domani l'europarlamentare Raffaele Fitto di Direzione Italia sarà a Teramo. Un incontro con la cittadinanza e non solo, probabilmente spiegherà anche le sue intenzioni politicamente parlando, ma poi ci sarà un incontro fondamentale per la cittadinanza. Sì, domani come ben detto ci sarà l'onorevole Fitto a Teramo, faremo questa conferenza alle ore 11 presso l'hotel Sporting, presenterà quelle che sono state le sue ragioni del perché ha creato Direzione Italia, dove intende andare Direzione Italia e sarà un'occasione anche per me per presentare il comitato provinciale di Direzione Italia, il quale è un incontro che abbiamo fatto qualche sera fa e insieme abbiamo deciso che per il momento sono io il coordinatore. Quindi insieme all'onorevole Fitto faremo questo passaggio. Successivamente, appena finito questo convegno, conferenza che si tiene allo Sporting, ci trasferiremo presso l'hotel Gran Sasso, dove ci aspetterà una delegazione di sfollati, in questo caso in particolare, praticamente quelli delle case popolari dell'Ater, anche perché io ho interessato tempo fa l'onorevole tramite il suo gruppo parlamentare di appoggiare i vari emendamenti che c'erano per il cratere, per la zona franca e quant'altro. Quindi ho il piacere di farli toccare con mano quelle che sono le difficoltà dei cittadini dell'Ater e di una proposta che avevamo lanciato pure noi tempo fa come comitato di Direzione Italia, che però, come spesso ci succede, purtroppo sono cascate nel vuoto. Ci dispiace, adesso che è finita la farsa delle dimissioni, speriamo di poter riprendere questo argomento, che era praticamente questo. Noi avevamo proposto che le grandi difficoltà di chi oggi sta in albergo era che inizialmente si era stato detto per qualche mese, poi invece si sta prolungando. Quindi probabilmente dovranno trovare delle sistemazioni di autonoma sistemazione in affitto, insomma, ma hanno la grossa problematica di, primo, è difficile cacciare le tre mensilità che giustamente i proprietari richiedono. Secondo, gli è difficile anche poi essere puntuali con gli affitti, visto che i rimborsi arrivano un po' con il contagoccio, questo non per colpa del Comune ovviamente, ma per via del Governo. Noi avevamo proposto al Comune, perché non fare il Comune direttamente il contratto d'affitto, quindi fare un attimino da garante e poi girarlo ai vari sfollati, diciamo, come utilizzatori. In questo modo si sentirebbe più garantito anche il proprietario che dà in affitto il proprio bene, è garantito la persona, l'utilizzatore che andrà lì e per il Comune alla fine è solo una partita di giro, perché deve semplicemente anticipare dei soldi che poi gli vengono restituiti dal Governo. Però una cosa che gli anticipa il Comune, una cosa che gli anticipa il povero cittadino che già si ritrova senza abitazione. Quindi tutte queste problematiche li riporteremo all'Europarlamentare, che visto poi la sua importante è carica, ci speriamo che se ne faccia carica e lo riporta nelle sedi opportune.